Ciao, ciao a tutti! Questa settimana un manager mi ha chiesto un consiglio su come costruire un network di qualità avendo lui poco tempo a disposizione. Secondo me ci sono due segreti. Il primo è farsi conoscere personalmente oltre che professionalmente. Il secondo sono i feedback. Quando stiamo chiedendo qualcosa a qualcuno gli stiamo chiedendo una parte del suo tempo per darci una risposta. Questo va valorizzato, ci vuole tempo ed è impegnativo, ma è molto importante. Concentrazione, concentrati in azione!